Quello che vi presentiamo è The Cancer, un boxer mare concepito per il tempo libero in spiaggia. Questo prodotto è un prodotto unisex, ha un taglio basket stondato in fondo e ha uno spacchetto nel fianco. La caratteristica di questo prodotto è un prodotto 100% made in Italy, a partire dal tessuto. Non ha la mutanda in rete interna e non ha tasche sui fianchi. È personalizzabile al 100%. Noi lo stampiamo piazzato e l'effetto finale di stampa è questo qua che vi mostro. Ogni capo è a sé stante. Noi questa tipologia di stampa la chiamiamo stampa vintage. Si parte dal tessuto bianco, dal prodotto finito bianco in tonso e si arriva al prodotto finale stampato come volete voi, con le texture che preferite, dando sfogo alla vostra fantasia. Il tessuto ha un fantastico tocco pesca. Possiamo averlo bianco da personalizzare oppure nero rifinito con i bordi bianchi. È nero di partenza, quindi non riusciamo a personalizzarlo come il prodotto precedente, però lo possiamo personalizzare in fondo alla gamba, in serigrafia, in termotrasferibile o a ricamo. Il risultato finale sarà comunque eccellente. Quest'estate potete pensare al vostro boxer mare personalizzato, fatto con i disegni che più vi piacciono. Per maggiori informazioni potete visitare la nostra pagina social www.facebook.com.boxermare A presto!